Buongiorno a tutti, ogni volta che si viene al culto è sempre un momento prezioso, non so per voi ma per me è sempre un dono venire in chiesa e poi anche ascoltare i canti. A proposito dei canti, ci credete in quello che cantiamo? Perché vedete quello che cantiamo, lo diceva bene Daniele, questi canti sono tutti tratti dalla parola di Dio, dalle verità bibliche. E questa mattina, continuando lo studio o il sermone su Mosè, vedremo queste verità. Voi sapete queste riflessioni nascono durante il periodo della mia malattia, tre mesi, lunghi tre mesi di malattia, di sofferenza, ma il Signore ha voluto in qualche modo darmi la gioia di riflettere su questo personaggio che ha cercato di rivitalizzare la mia vita, la mia fede, il mio servizio. Stiamo studiando, meditando su questo brano che vorrei che leggessimo insieme e vi invito ad alzarvi in Esodo 3, versetti 1 a 10 e questa mattina dovremmo concludere questa serie di sermoni su Mosè. Mosè pascolava il gregge di dietro suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge, oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere, allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse, ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano gli oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferizzei, gli Ivei e i Jebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunti a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Fin qui la parola, accomodatevi. Abbiamo visto che c'è questa verità centrale in tutto quello che stiamo studiando e la verità è proprio questa, che per la sua natura Dio usa benignamente persone imperfette per compiere la sua volontà perfetta. In questi dieci versi abbiamo detto, esamineremo la chiamata al servizio di Mosè e abbiamo detto che Dio ci espone quattro requisiti che definiscono la nostra chiamata. Abbiamo visto nella prima domenica, cioè voglio dire tre domeniche fa, il primo requisito che definisce la nostra chiamata, il tipo d'uomo che Dio chiama. Vi ricordate? Mosè, come prima cosa, abbiamo visto che era un pastore, poi abbiamo anche visto che era un uomo laborioso, era un uomo industrioso, abbiamo visto che era un uomo di fede, lui credeva in Dio e poi abbiamo visto, velocemente faccio un piccolo riepilogo per chi non c'era, abbiamo visto che era un uomo che si fermava a cercare il senso delle cose, infatti vi ricordate cos'è questo pruno che brucia e non si consuma, come mai? E poi abbiamo ancora continuato a vedere anche il secondo requisito che definisce la nostra chiamata, la chiamata stessa di Dio e abbiamo visto, abbiamo iniziato a vedere i quattro fattori di questa chiamata, la chiamata di Dio era rivolta a un uomo in ricerca e Mosè era un uomo che ricercava, abbiamo visto che la chiamata di Dio era una chiamata personale, infatti Yahweh chiama Mosè per nome, Mosè, Mosè. E poi abbiamo anche visto che la chiamata di Dio era una chiamata santa, vi ricordate quando diceva togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è un luogo suolo sacro. E poi abbiamo anche visto che la chiamata di Dio era una chiamata promettente, no anzi la vedremo adesso, questa la vedremo adesso. Ci siamo fermati alla chiamata di Dio che era una chiamata santa e esamineremo adesso, in questo momento poi, il versetto 6 dove ci dice che la chiamata di Dio era una chiamata promettente. Dio può veramente realizzare le promesse verso l'uomo. Ci crediamo in questo? Le promesse di Dio. Spesso ce lo dimentichiamo. Se ci fate caso, Dio stava dando a Mosè un po' della sua storia personale. Voi sapete che Dio non ha la storia come noi, Lui è al di sopra del tempo, dello spazio. Eppure per farsi conoscere dà un po' della sua storia personale. Il Dio del prunardente non era un Dio sconosciuto, era il Dio che agiva per conto di queste persone che hanno preceduto Mosè. E Dio dichiarò a Mosè una cosa straordinaria, a parer mio straordinaria. E devo dire che mentre stavo nel letto di infermità, perché, vi devo dire, finché poi non ho fatto le analisi che mi hanno prescritto alcuni dottori amici, io stavo pensando che forse me ne stavo andando. Non è un problema dirlo. E questa scoperta, che già sapevo, ma che il Signore ha voluto rimettere nel mio cuore, ha riattivato tutto nella mia vita. E spero, e prego il Signore, che lo faccia anche con voi. Notate esattamente cosa disse Yahweh a Mosè. Versetto 6. Guardate la prima parte. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Sacco e il Dio di Giacobbe. Vedete, Dio non dichiarò semplicemente di essere il Dio degli antenati di Mosè. No. Dio non dice Io ero il Dio. Questo penso sia un aspetto davvero da sottolineare. L'Eterno, il Signore, non sta dicendo che lui era il Dio, ero il Dio, ma dice Io sono il Dio. Ciò indica, e questa è la parte che vorrei che capissimo, indica che il popolo di Dio il popolo di Dio non muore mai. Non muore mai, veramente. Vi ricordate che cosa disse Gesù a Marta? La sorella di Lazaro che era morto ormai da quattro giorni. Signore non andare, ormai puzza. In effetti, dopo il terzo giorno i cadavri iniziano, inizia questo processo di decomposizione e Gesù dice a Marta, ma lo dice a noi questa mattina Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. e chiunque vive e crede in me non morirà mai. E poi dice Credi tu questo? Crediamo noi questo? Chi non muore mai mai fa parte di una relazione eterna con Dio. E questo è troppo bello. È troppo bello. Quando Gesù Cristo stava dimostrando la risurrezione e i Sadducei, voi sapete che era questa una fazione del popolo isbraico che i Sadducei non credevano nella risurrezione, non credevano in tante cose che la legge e l'Antico Testamento metteva in evidenza. E mentre Gesù stava spiegando la risurrezione e i Sadducei citò questo versetto che stiamo studiando in Esodo 3 e disse Non avete letto queste sono le parole di Gesù nel passo del pruno ardente egli non è Dio dei morti ma Dio dei viventi. Stava semplicemente dimostrando innanzitutto l'esistenza di Dio ma stava dimostrando anche la realtà della vita nell'aldilà ma stava anche dicendo che prima di entrare in relazione con Mosè egli Yahweh entrò in relazione con i loro con i suoi patriarchi. in altre parole Dio stava dimostrando che egli è il Dio vivo e vero. In altre parole stava dimostrando che i credenti dopo morti vivono e attivamente sono impegnati con Dio. Voi sapete noi siamo reduci di circa 3-4 anni dove hanno seminato questo terrorismo della paura di morire e in modo particolare di morire intubati che manca l'aria e l'ossigeno e tuttora ci sono persone che ancora sono vittime di quel periodo dove ogni cosa che si vedeva in televisione aveva a che fare con la morte era tutti per indurre a fare un certo percorso ebbene molti credenti siamo caduti sono caduti in questo tranello è come se il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe non avesse detto quello che stiamo studiando avere paura di morire è la cosa più più idiota che possa succedere a uno che dice di credere in Dio Dio dimostra stava dimostrando che i credenti entrino davvero nella terra promessa del paradiso Dio è il Dio di Abramo Isacco e Giacobbe erano questi uomini che Dio stesso stava menzionando erano morti molto tempo fa ed erano scomparsi da più di 400 anni eppure erano ancora vivi vivevano con Dio e lo servivano ciò indica che il popolo di Dio veramente non muore mai perché fanno parte di una relazione eterna con Dio la mia domanda è proprio intesa su questo punto fai tu parte di questa relazione eterna per avere questa relazione devi incontrare Dio un po' come Mosè forse non più con un pruno ardente ma puoi incontrare Dio anche in questa giornata in questa mattinata in questo momento ha incontrato Gesù Cristo non religiosamente che io con chi parlo addirittura alcuni tirano fuori la collana con la croce ecco Gesù quello non è incontrare Gesù Cristo quello è incontrarlo religiosamente che non ha nessuna valenza nella nostra vita infatti non cambia nulla non cambia nulla tu puoi conoscere Dio e la cosa interessante che Paolo dice in Galati che noi siamo stati conosciuti da Dio quando Mosè incontrò Dio versetto 6 la risposta di Mosè a una rivelazione così meravigliosa la scrittura dice Mosè nascose allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio Mosè era la presenza del Santo è stata diciamo una scena magnifica ora come credenti guardando un po' quello che è successo a Mosè ma ora noi come credenti attraverso Cristo non dobbiamo nasconderci il volto perché siamo nascosti con Gesù il Messia Cristo Gesù il nostro Salvatore è la nostra santità come dice Paolo ai Corinzi e noi possiamo essere santi perché Egli è santo vedete per fare una piccola applicazione per noi la chiamata di Dio era destinata a rafforzare la fede di Mosè basti pensare a ciò che Mosè aveva imparato da questa rivelazione aveva imparato che Dio è aveva imparato che Dio esiste realmente e cosa possiamo imparare noi noi possiamo imparare che la terra promessa del paradiso la vita eterna è vera i credenti tutti i credenti che sono andati via da questo mondo vivono e vivranno per sempre alla presenza di Dio e la morte non ci deve far più paura come purtroppo spesso avviene nel mondo Dio mantiene le sue promesse ci dobbiamo credere ad empile le sue promesse ad Abramo ad empile le sue promesse ad Isacco a Giacobbe e pertanto ad empirà le sue promesse per noi e ci sono un'infinità di brani biblici per confermare quello che sto dicendo e dalla chiamata di Dio a Mosè al servizio possiamo notare il terzo requisito che chiarisce e definisce la nostra chiamata abbiamo visto il tipo di uomo che Dio chiama la chiamata stessa di Dio vediamo adesso terza cosa le ragioni per cui Dio chiamò Mosè Dio è un Dio che chiama venite a me no? voi tutti che siete affaticati e io vi darò riposo ma una volta che chiama poi è un Dio che manda e quindi Dio chiamò e manda Mosè per tre ragioni molto specifiche diciamo ragioni che valgono se vogliamo fare questa comparazione valgono anche per ogni chiamata data da Dio anche i nostri giorni nella nella prima ragione del mandato a Mosè Dio dà le motivazioni le motivazioni versetto 7 Dio era profondamente preoccupato per la sofferenza del suo popolo la sua preoccupazione era rappresentata se vedete nel versetto dal versetto 7 in tre fasi guardate un po' primo Dio vide l'afflizione Dio vide la miseria del suo popolo si noti con quanta forza viene affermato il fatto ho visto ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e questa è la prima volta che Dio chiama Israele il mio popolo il rapporto di Dio con il suo popolo è così stretto il suo amore per loro è così intenso che identifica specificatamente i figli di Israele come il mio popolo e se vedete la seconda cosa che fa la seconda fase Dio ha ascoltato le grida del suo popolo guardate il versetto 7 come continua e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori infatti conosco i suoi affanni e senza dubbio i sorveglianti del faraone imprecavano inciudiavano picchiavano e costringevano le persone a lavorare oltre l'esaurimento totale e il popolo in questa circostanza gemeva il popolo soffriva sotto l'opprimente afflizione e questi il popolo di Dio non avevano altra speranza che Dio e non potevano far altro che invocare non potevano far altro che pregare vedete qualsiasi cosa ci accade nella vita è sempre una chiamata a invocare a pregare Dio lo fecero il popolo israeli lo fece e ora stava accadendo una cosa meravigliosa Dio ascoltò le loro grida non solo ora agiva per soddisfare il loro bisogno e terzo se vedete in questa terza sequenza Dio conosceva il loro dolore e la loro sofferenza ed era profondamente preoccupato per tutti loro ora per fare un'applicazione per noi oggi si vedono chiaramente due lezioni prima lezione per noi oggi Dio vede sempre la nostra sofferenza e misera e ascolta sempre le nostre preghiere le nostre grida Dio sa tutto dei nostri dolori ed è profondamente preoccupato per noi sapete perché Dio ci chiama a servirlo e spesso noi facciamo orecchie da mercante ma lui ci chiama a servirlo e la ragione stessa per cui Dio chiama a servirlo è perché vede l'afflizione e vede la miseria delle persone sente anche le loro gride di aiuto sa tutto dei loro dolori ed è profondamente preoccupato per loro questo è il motivo per cui chiama ci chiama a servirlo e seconda lezione per noi oggi Dio vuole anche che vediamo vuole anche che ascoltiamo che ci preoccupiamo per il suo popolo la Chiesa e per coloro che soffrono in questo mondo Dio vuole questo e nella seconda ragione del mandato a Mosè Dio dà non solo le motivazioni quindi Dio era profondamente preoccupato per la sofferenza del suo popolo ma dà anche lo scopo versetto 8 il suo scopo è il trasferimento del suo popolo guardate versetto 8 cosa dice perché Dio è disceso dice così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani quindi Dio è sceso per liberare il suo popolo dalla sofferenza voleva liberarli dalla loro schiavitù li voleva anche liberare dalla mano schiavizzatrice del loro nemico cioè l'Egitto guardate come il versetto 8 Dio è sceso è disceso come Dio di liberazione per compiere l'opera di redenzione Dio è sceso Dio è sceso per salvare il suo popolo per liberarlo dalla schiavitù del principe malvagio e dei malvaggi schiavisti dell'Egitto questo vedete se ci fate caso è esattamente ciò che è accaduto con il Vangelo Dio è sceso si è incarnato è stato crocifisso risorto e ci ha salvati e liberati a tutti coloro che credono in Lui e questo dovrebbe darci grande certezza grande fiducia grande sicurezza Dio ha il potere di liberarci in altre parole Dio è in grado di liberarci da tutta la nostra sofferenza Dio è in grado di liberarci anche dalla schiavitù di qualsiasi cosa possa essere persona nazione o potere sia fisico sia spirituale Dio ha il potere di liberarci è importante ricordare che in tutta la scrittura l'antico Egitto è un simbolo del mondo e delle sue vie mondali quando pensiamo all'Egitto vi ricordate che erano pentiti che se ne erano andati dall'Egitto perché pensate un po' lì mangiavano l'aglio e la cipolla ehi allora non avete capito niente queste cose fanno male mangiando sempre cioè pensate un po' a che stupidità erano arrivate il popolo di Israele e il faraone per fare una diciamo una comparazione il faraone è un simbolo del principio malvagio cioè di Satana stesso e vi dico di più Dio è in grado di liberarci da Satana e dal mondo e dalla schiavitù di questo mondo non importa quanto un potere possa tenerci schiavi sia esso fisico o spirituale Dio è in grado di liberarci punto e riguardo la redenzione vorrei sottolineare due fatti significativi primo Dio è il nostro Redentore e la Bibbia è stata scritta per farci capire che Dio è il nostro Redentore secondo Dio ci redime attraverso suo figlio il Signore Gesù Cristo è Cristo che ci salva è Lui che ci libera dal potere di Satana e dalla schiavitù di questo mondo e Gesù Cristo può liberarci dalla vergogna può liberarci dalla fragilità può liberarci dalla solitudine dalla routine può liberarci dall'immoralità questo mondo è pieno di immoralità anzi l'immoralità è diventata legge per esempio abortire hanno fatto una legge europea la donna ha il diritto di abortire e il bambino che sta dentro che ha il diritto di vivere come la vogliamo mettere però Cristo ci può liberare anche dalla droga dall'alcol dalla pornografia dal furto dall'abuso dalla criminalità e da qualsiasi altro potere schiavizzante perché Gesù Cristo è il Redentore Lui è il Salvatore dell'uomo Gesù Cristo può trasportarci dal peccato alla giustizia ci può trasportare dalla morte alla vita come abbiamo visto ci può portare dall'inferno al paradiso dal vuoto all'appagamento dalla solitudine all'amicizia alla collettività dalle tenebre alla luce e da nessuna direzione allo scopo preciso dall'insignificanza a quello che può essere la significatività significatività è una parola difficile questa però avete capito il senso nella terza ragione del mandato a Mosè Dio dà le motivazioni e lo scopo il traguardo guardate versetto 8 la seconda parte Dio ha voluto dare la terra promessa al suo popolo guardate versetto 8 sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e poi dice e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso in un paese nel quale scorrono il latte e il miele nel luogo dove sono i cananei gli titi gli amorei i ferezzei gli ivei i jebusei pensate mentre studiavo mentre leggevo si sta manifestando in un modo c'è adesso questa questa ondata di antisemitismo contro il popolo ebraico e perché la Palestina deve avere il suo territorio il suo terreno sapete quanto ha scritto Mosè questo brano quasi 4.000 anni fa e come la vogliamo mettere ma ricordate la terra promessa di Canaan era un simbolo della terra promessa del cielo sempre questo dobbiamo pensare per il popolo di Israele la terra di Canaan per la chiesa è il cielo della terra promessa esattamente Dio disse non solo avrebbe liberato il suo popolo dalla schiavitù ma lo avrebbe anche condotto nella terra promessa ha detto due cose sulla terra era una terra dove scorre il latte e il miele no Kinter Bueno tutte queste cose che noi conosciamo la pubblicità c'è proprio questa è un'immagine quando parla di dove scorre il latte e il miele è un'immagine di abbondanza di fecondità è un'immagine di fertilità la terra promessa era una terra che fioriva con il meglio di ogni cosa era una terra dove erano disponibili tutte le provviste necessarie per soddisfare qualsiasi bisogno tutti i bisogni del popolo di Dio è il termine usato in tutta la scrittura la seconda cosa che vediamo sulla terra era una terra spaziosa una terra così spaziosa che allora vi abitavano sei nazioni e lo dice lo dice quindi l'idea è che la terra fosse abbastanza grande da prendersi cura di tutti era una terra dove tutti avrebbero avuto molto spazio e non solo avrebbero vissuto in pace gli uni con gli altri cosa impariamo per noi oggi Dio non solo riscatta da qualcosa ma Dio ci riscatta per qualcosa perché se tu sei credente sei stato riscattato devi sapere che sei riscattato per qualcosa ci riscatta da Satana e dal mondo ci riscatta per sé e per il cielo emergono due verità sul paradiso il paradiso è un luogo dove scorre il latte e il miele con tutta la paura che ne sei minato no perché di solito ed è giusto perché l'assenza di una persona amata ci porta a piangere no? se muore un bambino possiamo dire che questo bambino non crescerà quindi se pensiamo che non farà le scuole non farà l'università è triste è triste ma dimentichiamo che il paradiso è un luogo dove scorre il latte e il miele è un luogo dove tutti i nostri bisogni sono abbondantemente soddisfatti e Daniele prima leggeva in Apocalisse dove lì c'è un quadro perfetto di quello che è il cielo e poi un'altra verità sul paradiso è che il cielo è spazioso c'è spazio in cielo per tutti coloro che crederanno in Gesù in Dio c'è spazio perciò affrettati a credere prima che sia troppo tardi e poi c'è il quarto requisito che vorrei andare velocemente è la risposta attesa alla chiamata di Dio quindi il tipo d'uomo che Dio chiama la chiamata stessa di Dio le ragioni per cui Dio chiamò Mosè il quarto requisito la risposta attesa alla chiamata di Dio versetti 9 e 10 Dio chiama diciamo chiamò subito quando Dio diciamo diciamo subito che quando Dio chiama una persona accadono due cose normalmente Dio chiama e la persona risponde quando Dio chiama e la persona sente che viene chiamato poi la risposta della persona che risponde quindi Dio si aspetta due risposte da Mosè le stesse due risposte che si aspetta da ogni persona che è chiamata a servirlo la prima risposta la prima risposta che Dio si aspetta da Mosè è che Mosè doveva contemplare doveva vedere doveva afferrare la visione e la compassione di Dio per il suo popolo Dio voleva questo che Mosè facesse questo passo guardate versetto 9 ora ecco le gride dei figli israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire e come prima cosa si può notare che Dio stava ripetendo per l'ennesima volta ciò che aveva appena detto nel versetto 7 identico il grido del suo popolo lo aveva raggiunto ed egli vedeva la loro terribile sofferenza ora io mi sono chiesto perché ripetere questo fatto sicuramente le sofferenze delle persone avevano toccato profondamente Dio ma più di questo Dio voleva che la situazione toccasse il cuore di Mosè ecco perché ripete il fatto che il popolo soffrisse Dio voleva toccare il cuore di Mosè con le sofferenze del suo popolo Dio voleva che il cuore di Mosè fosse spezzato dalla sua stessa compassione cioè la compassione di Dio che aveva verso il suo popolo voleva che l'avesse anche Mosè Mosè aveva bisogno di cogliere la grande visione di Dio per il suo popolo perché allora e solo allora Mosè avrebbe obbedito alla chiamata di Dio se non cogliamo la visione se non cogliamo la compassione di Dio per il mondo non potremo obbedire alla chiamata ecco perché dobbiamo avere compassione perché Dio ebbe compassione e seconda risposta che Dio si aspettava da Mosè Mosè doveva andare come messaggero di Dio per liberare il popolo di Dio dalla schiavitù versetto 10 ordunque va io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo i figli di Israele questa è la grande chiamata di Mosè il grande incarico che Dio ha dato a Mosè possiamo notare due fatti primo era Dio che mandava Mosè versetto 10 la prima parte Mosè non si stava nominando portavoce di Dio non stava non aveva l'autorità per fare una cosa del genere Mosè veniva nominato veniva scelto veniva incaricato inviato da Dio stesso Dio è solo Dio ha l'autorità di chiamare solo Dio ha l'autorità di incaricare le persone a rappresentarlo io mi chiedo quanti pulpiti sono stati occupati da persone che non erano state veramente chiamate da Dio quando si dice non fai quello che ti dicono ma non fare non fare quello che fanno quanti pulpiti sono occupati da persone che veramente non sono state chiamate da Dio a voi la risposta è che dire di di chi considera il ministero solo come una una professione non una chiamata una professione infatti nel mio paese comandavano tre persone il sindaco il maresciallo e il prete e quante persone solo come modo per usano il ministero solo come modo per guadagnare qualche soldo e per vivere una vita dignitosamente questo ci deve far riflettere perché l'Italia è diventata una nazione pagana pur avendo il Vaticano che si presume che sia cristiano tutto perché i pulpiti sono occupati da persone che non sono state veramente chiamate e che non incarnano il messaggio del Vangelo io mi chiedo quante persone scelgono il ministero per servire la gente io me lo chiedo quanti servono per dare un incommiabile contributo alla società me lo chiedo il secondo fatto da notare la chiamata e l'incarico di Mosè era quello di salvare le persone di liberarle dalla loro schiavitù e per quanto mi riguarda io so io so che quando Dio ci chiama si aspetta che rispondiamo e accettiamo anche la sua chiamata per prima cosa Dio si aspetta che comprendiamo la sua visione e comprendiamo anche la sua compassione verso le persone seconda cosa Dio si aspetta che andiamo avanti come suoi messaggeri andiamo avanti per liberare le persone dalla loro schiavitù di questo mondo Dio si aspetta che guidiamo i peccatori dal peccato alla giustizia dalla schiavitù alla libertà dalla morte alla vita dalla sofferenza alla salute dalla fame alla sazietà ecco il motivo per cui come chiese siamo impegnati nell'ambito sociale dalla solitudine all'amicizia dalla divisione alla riconciliazione dall'odio all'amore dalla guerra alla pace e dal pregiudizio all'accettazione questo è il motivo per cui Dio ci chiama io per concludere questa mattina nella chiamata Mosè si scopre il Dio che salva il Dio che salva non si scopre nei Vangeli no perché alcune volte alcuni che non conoscono la scrittura dicono che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio violento il Dio del Nuovo Testamento è un Dio d'amore è sbagliato nella chiamata Mosè si scopre il Dio che salva il modo in cui Dio ha salvato Israele dall'Egitto è il modo in cui Dio salva sempre il suo popolo sempre l'Esodo non è semplicemente storia passata ma è realtà presente questo accade a chiunque crede in Cristo Gesù e lo segue veramente e non religiosamente il Dio che si rivelò a Mosè presso il pruno ardente è lo stesso Dio che serviamo oggi è uguale è identico ogni volta e ovunque lo adoriamo è come se se stessimo su terra santa e ce lo dimentichiamo alcune volte siamo passivi siamo indifferenti ci distraiamo ma ovunque ogni volta che adoriamo è come se stessimo in terra santa lodando il Dio di Abramo e gridando a lui per la salvezza delle anime l'Esodo dall'Egitto rivela il modello di salvezza in Cristo quindi qualunque cosa Dio abbia fatto per Mosè ha una rilevanza diretta per il credente oggi è proprio come i figli di Israele erano sotto la frusta del faraone noi possiamo trovarci sotto l'incantesimo del diavolo e quanti credenti sono sotto l'incantesimo del diavolo e per questo abbiamo bisogno di salvezza proprio come i figli di Israele Gesù è disceso dal cielo come abbiamo già detto per elevarci alla gloria è il paradiso è la nostra terra promessa in luogo dell'abbondante ed eterna benedizione di Dio ed è anche un grande incoraggiamento la storia di Mosè per pregare per la preghiera tutto ciò che dobbiamo fare è gridare a lui per la liberazione dirgli tutto tutto quello che c'è nel tuo cuore perché come abbiamo visto lo ascolterà e sarà attento alla voce del tuo grido del tuo cuore e se apriamo i nostri cuori lo incontreremo veramente non come Mosè al prunardente ma sicuramente lo incontreremo e avremo un cuore splendente pieno di passione che non verrà mai meno e nella chiamata a Mosè si scopre il Dio che salva ma nella secondo nella chiamata a Mosè si scopre il Dio che manda manda Dio profevia a Mosè il suo piano e Dio disse il mio piano sei tu io ti mando noi dovremmo essere un po' tutti come Mosè perché Dio ci sta dicendo questa mattina il mio piano sei tu ma come io io non ho studiato non so parlare bene uguale a Mosè perché capitolo 4 poi non lo vedremo ma capitolo 4 Mosè inizia a dire tutte le sue paure i suoi ostacoli io non so parlare non sono un parlatore non sono un oratore se poi mi chiedono chi ti manda io che gli dico Dio dice a Mosè lo dice a noi questa mattina il piano sei tu io ti mando Dio è un Dio che manda in tutta la Bibbia insomma adesso ho 61 anni ho letto la Bibbia tantissime volte in tutta la Bibbia Dio invia persone con incarichi diversi Giuseppe fu inviato per esempio per salvare vite umane durante una carestia qui Mosè fu inviato per liberare il popolo dall'oppressione e dallo sfruttamento Elia profeta Elia fu inviato per influenzare il corso della politica internazionale Geremia profeta Geremia fu inviato a proclamare la parola di Dio Gesù stesso ha detto di essere stato mandato leggo in Luca per evangelizzare i poveri mi ha inviato per guarire quelli che hanno il cuore spezzato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi per proclamare l'anno accettevole del Signore i discepoli di Gesù furono mandati a predicare e dimostrare la potenza del regno di Dio Paolo e Barnaba i primi mandati i primi missionari furono inviati per alleviare la carestia poi furono inviati per l'evangelizzazione la fondazione di chiese e infine Tito Tito fu inviato per rimettere in ordine una chiesa che era in disordine Dio è un Dio che manda e il piano di Dio il piano di Dio sei tu senza ma e senza se il piano di Dio sei tu 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 ci sono una serie di santi sforzi in cui tu puoi essere coinvolto nella fondazione di chiesa di solito quando si deve fondare una chiesa sono sempre due o tre persone che lo fanno gli altri guardano tu puoi essere coinvolto nella fondazione di chiesa tu puoi essere coinvolto nella rivitalizzazione di chiese attorno a noi ci sono chiese morenti hanno bisogno di essere rivitalizzate da chi? da te da me tu puoi essere coinvolto nell'ospitalità avremo una grande sfida ospitare due giovani per tre mesi tu puoi essere coinvolto tu possiamo essere coinvolto nella cura dei bisognosi quella cura che spesso ci dimentichiamo e che trascuriamo e quest'anno alcune hanno cioè se io ci penso ad uno ad uno vi devo interrogare e dire ma perché hai lasciato ACP? ma le cose più incredibili e delle scuse assurde eppure lo fate non c'è compassione per i bisognosi noi possiamo essere coinvolto dice l'ecclesiaste tutto quello che la tua mano trova da fare fallo con le tue forze perché quando andremo all'ar di là non c'è più lavoro non c'è nulla da fare più è già stato fatto tutto la risposta che Dio si aspetta da te è una parola ve la ricordate? eccomi brava Aurora eccomi questa è la risposta che Dio si aspetta da ognuno di noi se tu sei stato chiamato chiamata rispondi eccomi rispondi positivamente alla chiamata di Dio e la terra promessa sarà tua perché lo dimostri non solo con la bocca ma anche con i fatti sapete una cosa e finisco non c'è cosa più bella nella vita che obbedire a Dio e andare a fare esattamente quello che lui vuole perché prima o poi lasceremo questo mondo e chi incontreremo se apparteniamo al Signore lui è il Dio di Abramo di Isacco di Giacobbe è il Dio di Giovanni Greco di Concetta di Maria Luisa di Simona il Dio di ognuno di noi e lui vuole ci ha chiamati e ci manda siamo stati salvati per servire Amen Perciò non dimentichiamo questi tre mesi di sofferenza che ho vissuto e queste sono le riflessioni che sono scaturite da questa sofferenza e spero che voi non possiate non dubbiate soffrire per capire quello che ho detto in questi tre tre sermoni che abbiamo visto insieme sulla vita di Mosè Signore aiutaci preghiamo aiutaci a essere come Mosè è vero lui ha poi apposto tanti ostacoli ma ad ogni ostacolo tu hai dato una risposta non so parlare e tu rispondi chi ha fatto la bocca la lingua Signore è vero noi tante volte opponiamo delle scuse alcune volte delle scuse incredibili inverosimili eppure abbiamo la sfacciataggine di darti e fare queste scuse pur di non servirti perdona la nostra pochezza il nostro tentativo di sfuggire a questa chiamata così importante meravigliosa ti prego Signore che fai di noi come Mosè come ognuno di noi è un piccolo Mosè affinché possiamo rispondere eccomi affinché possiamo essere positivi alla tua chiamata ed essere obbedienti a quello che tu hai indicato di farci fare per la tua gloria perché possiamo avere quella compassione che tu hai avuto verso il tuo popolo che hai avuto anche verso di noi verso di me e che noi possiamo avere verso le persone che ancora non ti conoscono a te la lode a te la gloria grazie perché tu sei un Dio che salva e un Dio che manda Amen